In Colombia, ultima tappa in Sud America del viaggio del segretario di Stato americano Mike Pompeo, un tour che lo ha portato anche in Cile, Paraguay e Perù e nel quale ha discusso sulla questione venezuelana, ribadendo la richiesta al leader venezuelano Nicolas Maduro di consentire aiuti nel suo paese e di dimettersi. Signor Maduro, apra questi ponti, apra questi confini, può farlo oggi e spero che le interessi. Spero che le interesserà abbastanza quando vedrà l'orrore, quando vedrà la tragedia, cambiare i suoi modi e lasciare la sua nazione. Gli Stati Uniti hanno imposto una serie di sanzioni contro il governo di Maduro nel tentativo di allontanarlo dal potere, mentre Russia, Cina e Cuba continuano a sostenere il regime bolivariano.